Il centro sportivo italiano di Arezzo intende promuovere nei prossimi mesi un progetto specifico per le parrocchie. Il centro sportivo italiano è nato nel 1944, è nato all'interno dell'azione cattolica e soprattutto all'interno delle comunità parrocchiali. Una delle cose che questa mattina diremo nell'incontro che facciamo con la stampa è proprio anche la presentazione all'interno del progetto, di un'iniziativa che il centro sportivo italiano ormai organizza da cinque anni. È una team cappe che è nata in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A e la Team Telefonia, ma che ha lo scopo di riportare il calcio all'interno degli oratori, coniugando in un certo senso quello che è lo sport di base, con grande valenza educativa, con lo sport anche di livello professionista. La fase aretina inizierà a fine gennaio. Al momento sono ancora aperte le iscrizioni con il Cessi di Arezzo, che si sta preparando anche alle elezioni del Comitato Provinciale, candidato alla carica di Presidente Giorgio Saini, mentre a quella di Vice Lorenzo Bernardini. Le elezioni si svolgeranno sabato 28 gennaio presso il seminario di Arezzo.